ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora nel mio canale allora ripartiamo ancora con il rap turco ragazzi questa volta vi porto masaka sembra un piatto greco musaca allora masaka in collaborazione con joe yong in collaborazione con snoop dogg ragazzi allora per questo video si intitola tre kings quindi partiamo subito big snoop dogg ragazzi snoop dogg sta fumando strano non lo sapevo ok lui è massaka ragazzi due doberman ok ok ripartiamo ragazzi LUNA SIVA E E LUNA E 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